L'Ona è un'associazione di tutela dei lavoratori e cittadini vittime dell'amianto e di altri cancerogeni. Abbiamo da tempo sottolineato l'emergenza ambientale che sussiste nel comune di Aprilia e nei comuni limitrofi, compreso Pomezia, già colpita dall'incendio dell'Eco-X, per il quale l'Ona aveva segnalato il rischio amianto che purtroppo poi si è concretizzato in sinergia con tanti altri cancerogeni, le diossine, residui della combustione e metalli pesanti, oltre alle fibre killer che purtroppo stanno mietendo vittime ad Aprilia come a Cisterna di Latina, come a Pomezia, come a Nettuno, come a Danzio e nella stessa città di Latina, in un territorio che è di confine, anzi un territorio dove vi è un'emergenza, quella dei continui incendi, sui quali chiediamo si faccia piena luce, come abbiamo già segnalato alla Procura della Repubblica di Latina, attraverso l'esposto del signor Giovannoni Remo, che è un cittadino di Aprilia che abita contiguamente allo stabilimento di stoccaggio di rifiuti, nel quale c'è stato l'ultimo più grave incendio che ha contaminato l'intero territorio a sparso veleni che purtroppo verranno respirati e mangiati attraverso gli alimenti o semplicemente inalati nel tempo. Riteniamo che questa emergenza ambientale, che questa strana coincidenza che non può essere tale di continui incendi debba essere attenzionata da una verifica da parte della Procura della Repubblica, ovvero degli uffici competenti, e che ci debba essere un intervento del Ministro dell'Ambiente, Generale Sergio Costa, unitamente ad attività investigative anche della Direzione Antimafia, per verificare se questi incendi sono per caso o se non ci sia alla base un fenomeno non chiaro, torbido, sul quale si debba fare piena luce tenendo conto che le conseguenze poi le pagano i cittadini, che si tratta di un disastro ambientale, che comunque ci sono dei danni irreversibili all'ecosistema e all'ambiente e che la lesione dell'ambiente poi porta alla lesione della salute, perché porta alla esposizione, ad amianto, mi riferisco al caso Ego X, ma anche a tutti gli altri incendi ed anche ad altri cancerogeni. Un cocktail di cancerogeni o comunque di agenti tossico-nocivi che agiscono in sinergia e all'interno del corpo umano subiscono anche un'azione tra di loro e la modificazione chimica, una reazione con le cellule biologica all'interno del nostro organismo alterandone la composizione, la mitilazione e dando vita quindi a quel fenomeno infiammatorio, o proto-infiammatorio di reazione chimica che avvia anche il processo della cancerogenesi, che poi porta a un aumento di malattie neoplastico ad incidere su malattie neoplastiche già in essere o che sarebbero state comunque diagnosticate. Per questi motivi, come Osservatorio Nazionale Amianto, dichiariamo la nostra adesione all'iniziativa intrapresa dai comitati cittadini di Aprilia alla manifestazione di sabato prossimo, invitando tutti gli aderenti dell'Ona, tutti i simpatizzanti, tutti gli iscritti e militanti a partecipare, a dare forza alla voce dei cittadini per chiedere salubrità dell'ambiente, tutela dell'ambiente, tutela della salute, repressione del crimine organizzato, se alla base di qualcuno di questi incendi dovesse essere riscontrata la mano immisibile di chi ha un interesse a questi incendi. Naturalmente ci rimettiamo alla valutazione della magistratura, sarà la Procura della Repubblica, saranno gli uffici competenti a dover fare chiara luce sulle strane coincidenze di questi continui roghi che tanto danneggiano la nostra salute e il nostro ambiente. Ecco perché come Ona noi non arretreremo rispetto alla richiesta e all'appello che abbiamo rivolto e rivolgiamo al Ministro dell'Ambiente perché sul punto ci sia un intervento chiaro preventivo rispetto a questi incendi, che non si debba ripetere ancora una volta la tragedia dell'Eco-X o anche di altri casi, quindi azione preventiva e responsabilità e risarcimento dei danni subiti dai cittadini per la contaminazione dei terreni, dell'aria e dell'acqua e in caso di preoccupazione, quindi di un danno psicologico, morale oltre che biologico legato a questi eventi. Quindi partecipiamo tutti uniti, uniti per vincere contro l'illegalità, per l'ambiente e per la salute.